Conoscete la storia del rapimento di Benedict Cumberbatch? Era il 2004 e l'attore si trovava ad Urban, in Sudafrica, per girare la miniserie BBC To the Ends of the Earth. Insieme a due colleghi, aveva trascorso il weekend libero a fare immersioni subacque e stavano ora facendo ritorno alla località dove si tenevano le riprese. Faceva freddo, era buio e la strada che stavano percorrendo era notoriamente un posto pericoloso quando lo scoppio di una gomma dell'auto li costrinse a fermarsi. Fu in quel momento che dall'oscurità saltarono fuori sei uomini armati. I rapitori legarono loro i polsi con i lacci delle scarpe e li caricarono in macchina. Ma quando Cumberbatch si lamentò di stare cominciando a perdere la sensibilità alle mani, si fermarono di botto e lo rinchiusero nel portabagagli. I tre rimasero nelle mani dei rapitori per almeno due ore e mezza e vennero ovviamente derubati di tutto ciò che avevano. Infine vennero fatti scendere in una strada isolata e fatti inginocchiare per essere uccisi. In quel momento però fortunatamente alcune luci si accesero nelle vicinanze mettendo in fuga i malviventi. In un'intervista l'attore ha raccontato commosso il momento in cui sono stati salvati e lui ha pianto di gratitudine e come questo evento traumatico abbia cambiato il suo modo di vedere la vita.